un gommone un gommone volante il primo gommone in bicicletta il gommone che ciclo funziona la macchina aspetta che mi sono sbilanciato una pausa gommone vai 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 è libero? libero, libero, via allora io vado saluta gommone partito, partito gommone canotto automatico il canotto volante è salpato eccolo qua che avanza avanza indisturbato ma come fa un canotto a volare così? un canotto con le ruote poi guarda che roba come fa? non si vede ho la memoria attenzione che arriva un altro canotto occhio la gente si chiede come faccia a vederci ma lui va avanti guardatelo è un canotto con le zampe anche questo ma che roba è partito è partito e poi i canotti volano anche forte guarda, guarda, guarda vediamo come fa la curva vediamo che bestia c'è anche una bella ripresa guarda, guarda incredibile cos'è che ha detto il canotto? adesso è il pezzo più difficile il canotto deve inserirsi ecco ce l'ha fatta, ce l'ha fatta ecco un altro suo simile arrivare dalla sinistra occhio macchina macchina vai ora 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 ti ho liberato la strada eccolo il canotto che impenna impenna sul finale è riuscito ad arrivare il canotto cos'è cosa si sente di dire dopo questo tratto col canotto? fine e finiamo così? andiamo così ok ok